Avete notato che di solito sono le cose più piccole che ti rovinano la giornata e ti fanno arrabbiare di più? Vi spiego. L'altro giorno volevo fare un video facendo lo screen del telefonino o dell'iPad per potervi far vedere cosa facevo durante il volo, quindi tutti i tasti che pigiavo tutto quanto. Bene, la registrazione è venuta perfettamente, salvata sul dispositivo perfettamente, il problema qual è? Che andando a esportarlo sul mio Mac, quello che mi serve è quello qua, quello che mi serve per fare tutti i filmati e tutto il video editing, questo non veniva caricato nel programma di video editing stesso, quindi cosa ho dovuto fare? Cercare un sacco di programmi per poter convertire, nessuno funziona, tutto è pagamento oppure 30 secondi oppure ti facevano dei codec strani. A un certo momento quello fatto l'ho caricato e lo vedrete domenica, che l'ho caricato per domenica, così com'era praticamente, vedete soltanto lo screen avanti e indietro, una piccola parte all'inizio di registrazione dello schermo mentre stavo facendo il setup e una piccola parte dopo quando spegnevo la registrazione. Questo è quello che ho dovuto fare. Di quello mi sono rovinato due giorni di lavoro praticamente, uno per poter fare un tentativo di recupero del file, che poi non è riuscito, e secondo chiaramente per fare il montaggio e il caricamento sul sito. Ragazzi, adesso sono bello tranquillo, spero che i prossimi video siano più tranquilli e più sereni come sono sempre io. Alla prossima, ciao a tutti!